Si è spenta a casa Gerosa Adamiotti, mamma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e per diversi anni maestra elementare di Schiavon. Aveva 96 anni, ne hanno dato l'annuncio i figli Don Pietro, Maria Rosa e Giovanni con i coniugi, i nipoti e tutti i parenti che nel necrologio hanno voluto scrivere la vita non è tolta ma trasformata. Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio la vicinanza nella preghiera con lui anche il Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto che a nome del presbiterio e dell'intera comunità diocesana ricorda Adamiotti Parolin come una persona dal tratto gentilissimo, dal carattere forte e dallo spirito ricco di fede cristiana. Una donna apprezzata da tutti, rimasta vedova di Luigi Parolin nel 1965 per un tragico incidente e capace di allevare da sola tre figli piccoli Pietro, Maria Rosa e Giovanni. Il funerale si terrà martedì 3 settembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Schiavon.